Il tema è un po' il refrendi questa campagna elettorale che ha scelto giustamente Claudio perché rende molto bene l'idea della squadra, del lavorare insieme, del progredire insieme. Ne abbiamo fatto di strada un centimetro alla volta, Claudio e tutti noi, tutti gli amici che sono qui con noi. La vittoria è lì, la vediamo, ci sembra quasi di poterla toccare, però dobbiamo arrivarci e manca ancora qualche centimetro e noi dobbiamo continuare a percorrere quel centimetro alla volta per arrivare alla vittoria. Il centimetro che ci manca è coinvolgere le persone che non abbiamo ancora coinvolto, contattare le persone che non abbiamo ancora contattato, fare tutto quello che possiamo fare per centrare questo obiettivo. Parlando con degli amici, ieri con altri amici di altre liste della nostra lista si diceva una campagna elettorale molto difficile. È sicuramente una campagna elettorale molto difficile, ma Claudio tu ne hai fatte tante, qualcuno l'ho fatta anch'io, molto meno di te. Io campagne elettorali facili non le ho mai viste. Anche le campagne elettorali quando il candidato sindaco era sappa erano facili nel senso che la vittoria era scontata, perché avevamo un candidato eccezionale, un gruppo eccezionale e una forza veramente molto forte. Bravo! Però anche quelle campagne erano difficili, perché eravamo più partiti, qualizzati, ma ognuno ovviamente tirava per il suo partito. Tanti candidati, ognuno all'interno della singola lista cercava di prendere più voti dell'altro. Quindi campagne elettorali facili non esistono. Questa è una campagna difficile perché il quadro è completamente cambiato. Si è spaccato un mondo, qualcuno ha voluto spaccare un mondo e non siamo noi, non sei tu, Claudio, non voglio fare polemica, non è questa la sede, oggi è una festa, è una festa per noi, è una festa per voi che ci siete venuti qua a festeggiare, però è un dato di fatto. Una campagna difficile ma è una bellissima campagna, Claudio, gli amici tutti. Io veramente per me lo dico, lo dico perché lo penso, io penso che sia la più bella campagna elettorale che l'hanno fatto. Respiro un clima meraviglioso tra di noi, veramente di amicizia, di condivisione, di voglia di fare, non c'è rivalità, non c'è aziosità, siamo veramente un gruppo, siamo veramente una squadra noi.